Buongiorno a tutti ragazzi, bentornati oggi su Crypto Salad, io sono Federico, siamo arrivati al 10 ottobre 2019. Oggi guardiamo la price action di Bitcoin, in particolare commentiamo su diversi time frame quello che sta succedendo, soprattutto alla luce di quanto accade ieri con Bitcoin che recupera più o meno 5 punti percentuali schizzando dagli 8200 agli 8600 dollari. Il livello prezzi in cui si trova in questo momento più o meno 8630 dollari. Dopodiché commentiamo anche lo stato delle altcoin, la Bitcoin dominance e andiamo a vedere qual è lo stato del trend invece settimanale, se il nostro bull market iniziato diverse settimane fa è ancora confermato. Quindi ragazzi mi raccomando se vi sembra interessante non dimenticate di lasciare un mi piace, iscrivetevi al canale, cliccate la campanella per ricevere le notifiche e supportateci utilizzando il referral link che trovate in descrizione. Quindi ragazzi qua siamo sulla chart di Bitcoin delle 4 ore, come vedete quello che è successo anche a seguito del dump di Bitcoin di fine settembre scorso, in particolare il 24 settembre scorso, Bitcoin ha viaggiato all'interno di questa formazione che potrebbe essere un falling wedge, per cui prezzi che trovano supporto a livelli prezzi sempre più bassi, resistenze sempre più basse, tuttavia è una formazione rialzista che nella maggior parte dei casi rompe verso l'alto. Così è effettivamente successo, vedete in questa circostanza. Eravamo al 7 settembre per cui tre giorni fa, due candele che bucano questo ipotetico falling wedge, poi una bull flag per cui un pattern di continuazione rispetto al trend rialzista iniziato, infatti poi ieri abbiamo la continuazione del trend rialzista e sembrerebbe che in questo momento Bitcoin stia creando un'altra bull flag per continuare il suo movimento rialzista. Stiamo a vedere che cosa succederà, ovviamente le cose sembrano abbastanza bullish positive, sia perché c'è una bull flag, sia perché il MACD ci segnala che il trend continua ad essere rialzista. Come target nel caso in cui dovessimo vedere altri rialzi, potremmo sicuramente avere il contatto con la media mobile delle 200 candele sulle 4 ore, che si trova di poco al di sotto dei 9.000 dollari. Quindi è molto probabile, ovviamente tenete sempre in considerazione che quello che vi dico non sono mai consigli di investimento, ma semplicemente la mia opinione, è probabile da un punto di vista di analisi tecnica vedere Bitcoin andare a toccare i 9.000 dollari nelle prossime ore. Stiamo poi, andiamo poi a guardare il, anzi voglio mostrare il trend invece sul giornaliero. Il giornaliero mostra anche qui un trend sul MACD rialzista, vedete che il 3 di ottobre è flippato in una posizione rialzista, quindi potremmo aspettarci da un punto di vista giornaliero ulteriori rialzi. E dopodiché come target invece sul giornaliero abbiamo qua il contatto con la media mobile delle 50 candele giornaliere. Come vedete è molto positivo che Bitcoin si è riportato al di sopra invece delle 200 candele giornaliere, elemento che distingue tra un bull market e un bear market, quindi ci siamo portati al di sopra di nuovo delle 200 candele giornaliere, segnale decisamente positivo. E sembra in questo momento che si possa andare a testare anche i 9.400 dollari, perlomeno sul time frame giornaliero. Quindi abbiamo un target sulle 4 ore dei 9.000 e sul giornaliero dei 9.400. 9.400 che corrisponde anche al livello di supporto che Bitcoin ha incontrato durante il suo triangolo invece ribassista. Quindi quello che prima era supporto dovrebbe trasformarsi sulla base dell'analisi tecnica in resistenza e quindi è plausibile in questo momento che Bitcoin riesca ad andare a testare, ad insidiare i 9.450 dollari all'incirca ed eventualmente in quella circostanza essere rigettato dalla resistenza, quindi una sorta di movimento del genere. Stiamo a vedere ovviamente che cosa succederà. Voglio poi mostrarvi il trend sul time frame settimanale. Questo è l'EMA ribbon, per cui un nastro di medie mobili. Se il prezzo si trova al di sopra di questo, siamo in un bull market. Al di sotto di questo invece siamo in un bear market dal punto di vista settimanale. Come vedete molto positivo anche il comportamento di Bitcoin in questa circostanza che ha trovato supporto lungo l'ultima media mobile e quindi sta ripartendo verso l'alto. Decisamente movimento bullish per Bitcoin. Vi ricordo che la candela si chiude domenica e quindi anche sul settimanale le notizie positive per la continuazione del nostro bull market iniziato direi il 22 aprile scorso, più o meno a fine aprile 2019. Parliamo poi insieme della Bitcoin dominance, per cui la dominanza che ha Bitcoin sulle altcoin. In questo momento siamo al 69%. Vediamo che nelle ultime 2-3 settimane le altcoin hanno recuperato qualche punto percentuale perché eravamo arrivati addirittura al 73%. Nelle ultime 3 settimane le altcoin hanno respirato un attimo guadagnando un po' di capitalizzazione verso Bitcoin. Siamo in questo momento infatti al 69%. Il MACD in questa circostanza ci segnala un trend ribassista per la Bitcoin dominance quindi sembra da un punto di vista settimanale che le altcoin abbiano ancora da recuperare contro Bitcoin. Tuttavia stiamo attenti perché se Bitcoin dovesse iniziare a iniziare un vero e proprio trend rialzista molto convinto, come sembra sulla base di quello che vi ho mostrato nelle chart precedenti, le altcoin potrebbero soffrire e quindi di conseguenza perdere altra dominanza e addirittura andare a vedere magari una Bitcoin dominance di nuovo al 70% o addirittura raggiungere questo target di potenziale resistenza intorno all'82% perché qua c'è stato diverso movimento per la Bitcoin dominance. Quindi non sono così convinto che il trend positivo per le altcoin contro Bitcoin possa continuare a proseguire e questo perché immagino che nelle prossime settimane Bitcoin possa vedere interessanti rialzi anche a discapito della capitalizzazione delle altcoin. Quindi ragazzi per oggi è tutto, fatemi sapere che cosa ne pensate, se siete bullish o siete bearish. Grazie per la vostra attenzione, noi ci vediamo al prossimo episodio. Non dimenticate di lasciare un mi piace. A presto, ciao!